Ragazzi oggi siamo su Skyrim, il nostro obiettivo raggiungere la fine della main quest del tumulo delle cascate tristi Il mondo di Skyrim in questo momento è randomizzato Vedete l'uscita dalla caverna? Bene, poteve portarci in una taverna come potrebbe portarci in una rovina nanica davanti a un cinturone nanico che ci one shot in un colpo E noi dobbiamo andare avanti per tutte le zone che incontreremo spawnando in posti sempre random sperando di arrivare al tumulo delle cascate tristi dove faremo la missione E la sfida sarà il battere pala, pala giocherà contro di me e vincerà chi ci arriva per primo, pala di qualcosa però Ci sono tre semplici regole, per andare in una nuova zona bisogna essere fuori dal combattimento, questo ci costringerà o a fuggire dai nemici o a ucciderli Dovremmo essere in ardua di difficoltà e non si può salvare in combattimento, abbiamo lo stesso seed quindi arriveremo negli stessi tanti punti Aspettate, aspettate, no, c'è il partito, faffanculo che sto entrando vai Una pozione di merda No grillo, l'altra porta che c'è nella stanza No, il video finisce qua, purtroppo non c'è modo di aprire questa porta e niente alla fine non ha vinto nessuno Dovremmo fare tutto il dungeon del tutorial contrario e sperare che la porta finale del dungeon ci dia un'altra porta Ehm, ho trovato un grimaldello, si chiama cliccare sulla porta e fare unlock, ok si è aperta No, no, scasso fai, tu bari Dai, voilà, bariamo entrambi così siamo alla pari Oddio, c'è un fantasma, oddio È livello 1 però, abbiamo qualche modo di combattimento, sì ma non vi preoccupate, le stesse modo che ho io ce l'è anche qua Ok, uh, questo fantasma ha una corazza di pelle e anche una spada Intanto ci sono nemico, ti do 10 secondi di tempo 10, 9, ok perfetto, basta Oh, ho presente che dungeon è qua, seal di necromante Oh, c'è un libro delle abilità Boom, via Ho più distrutto Oddio Mi toglie metà vita con un colpo Ho trovato l'uscita No, ma ero un door media Sono nella stanza del loyal di Markars A caso Buonissimo, siamo arrivati in un punto buono Ho trovato l'uscita Ah, sono a marca Esatto, anche te, vedi La spada di ferro, eh? Cosa vorresti uccidere? Farfalle? Grillo, sono nell'area finale del gioco Quello in cui batti Sovengard Sono a Sovengard Seriamente? Sono a Sovengard Oltre al punto, come c'è di solito la guardia Ogni porta Ha una porta diversa Sono fuori Oddio, sono a Sovengard anch'io Sono in un accampamento di orchi Non sono in combattimento Quindi me la torno indietro Sto prendendo un'altra porta io Oh, oh Ho scassinato una porta di Sovengard Sono a Windelm Le città sono piene di porte Posso proprio andare ovunque Ho aperto una porta Sono andato a Riften Uh, uh, uh Due città Cerco Briniolf E mi faccio dare un po' di soldi Le tue tasche sono piuttosto vuote Prima volta che arriva Riften Con meno di cento monete d'oro Sono Occa Ne stiamo a esplorare, ho capito Oh, sono dentro Una casa Sono dei guerrieri nati Ho una taglia su Winterwood Basta, esco Pare che abbia scelto la persona giusta Eh, eh, signore Ci sei incastrato E' perso Sono entrato nel dungeon Dei nani No, nella parte finale Quella in cui prendi l'antica pergamela No, non posso posizionare il dizionario Entriamo nella casa del fabbro di Riften Vedo una porta Oddio Sono a Markarts Io ho Windelm, Riften e Markarts Tutte attaccate Ma che pare Si è bagato quel caricamento Adesso mi interessa Vabbè Niente Non riesco più a tornare a Windelm Che più due maroni Si è bagato quel teletrasport Oddio Questo è potentissimo Vai, parata perfetta Muori Uh, corazza lamiata Steel Battle Hux Sono full ferro In questo momento Mucchio di sali Ok, torniamo indietro Io non so dove sono Però non mi piace dove sono Ma perché sono sempre qua Sempre in rovina 2M Oddio Sono nella barca dell'imperatore Vediamo dove porta S'altra parte della locanda di Riften Ah, mi porta Oddio No, sono in combattimento No Vai, muori Bam, bam Scusate, quindi ho martellato in faccia Vai, corazza è migliore Do Do Mamma mia Mamma mia Che killcam Mamma mia Ti ho spaccato la testa Aspetto che si avvicini Aspetto che si avvicini Aiuto Cura minore Vai, killcam Si, fuori Vai Boom Ma dai Sei serio Mi hanno ucciso Vabbè Si ricomincia Andiamo di qua Sto giro Sono in una casa di Markarts Sono nella casa di un tipo a caso Bellissimo Sono in un dungeon Ho uscito tutti sti banditi Nooo Sono bloccato Sono nel dungeon di Skull Duffen Quello che ti porta a Sovengard C'è la porta che dovresti aprire con un indovinello E non la posso aprire perché l'indovinello è dall'altra parte Cazzo nelle palle rovesciata Dai Confido che il ratum mi porterà nel tumulo delle cascate tristi Dai Sono nella locanda di Wildcrant Sono a ponte del drago Oh Sto arrivato a Solitude Se scendo da sto tetto non potrò più tornare indietro Vabbè Dai me la rischio I banditi sono rispawnati Allora Here we go again Sono da dei Falmer Ma dove cazzo sono? No 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 Io li torno indietro I Falmer hanno preso possesso della locanda di Solitude I banditi giustamente sono rispawnati Comunque è bellissimo come la trumenta bardata sia in un dungeon pieno di banditi Oh Sono nell'esterno di Skull Duffen Sono in una casa Sono dallo stalliere di Wildcrant Non dovresti essere Sì lo so non dovrei essere Poi vado via Devo fare il dungeon al contrario Che ho due maroni Non ne ho voglia Ok non ci sono nemici Ancora all'esterno di Skull Duffen Che palle Oh sono in una zona di orchi Andiamo nella botola Sono arrivata morta C'è anche la porta Sì è In un'altra casa Casa di Severo Pellagia Ma che cazzo di casa è questa Severo Pellagia Oh sono tornato a Solitude Alla le zone imperiali non mi si unirò Basta Alla ma perché Ma perché io ho sta cosa con i Dwemer Io non ho ancora visto una rovina a Dwemer Sono a Rodgaralto Il cielo ti protegga Un po' mortal era un posto Non me ne stico un cazzo Un tempo mortal Un posto bello Oh l'ho scassinata Se l'ho fatta Assurdo Un dungeon Grillo Io ho finito il gioco Sono andato là dagli eroi Sono andato dagli eroi Oh sei a Sovengard Dentro Sovengard Ah durando le nostre mani Seriamente? Sì Andremo a comprare le alpi Ah ho completato Sovengard ho completato Sovengard Iniziata ammazza Draghi Se torni a Sovengard E finisci il gioco Vale come buono Qual è la porta che mi ha portato Che mi ha portato a Sovengard Questa Ho il ping della missione finale Ci va a finire No vabbè dai Guarda ci sono gli eroi qui Grillo No Grillo non ho l'urlo Ebbene non puoi Non puoi andare avanti Perché non hai l'urlo Vabbè l'urlo non buttano Dovrei fare tutta la missione di Barba Grigia Ehi dai Scompigliamo Alduin E ma io non conosco l'urlo Cos'è un urlo? Sono un sangue di drogo Sì eee No Sono nella caverna finale In cui si fa la missione Della compratelle dei ladri Però non la posso fare Perché non ho la chiave Sì eee No allora ragazzi Eee Questo posto non fa per me All'oggio dello Yarla Risco subito Scusatemi Sono all'entrata di Skull Duffen Che palle Sempre questo Skull Duffen Sono all'inizio del Blackridge Oh Tre volte che trovo Un'entrata per il Blackridge Mi solto il cast Non te lo ripeterò Vattene via O chiamo le guardie Chiamo le guardie Ah ma venite una testata in bocca Stantissima Basta Signore supremo della guerra Dragon Ah ok Molto assicurante Sono al Fall Chris Però sono in un balco Dove cazzo sono? Caverna Desolata C'è arrivata anche te? Oh Dove sono? E niente Ho ucciso Un signore Supremo Della morte Dragon Come hai fatto a livello 4? Sono arrivato a Skyhaven Temple Dove c'è il muro di Alduin C'è l'armatura delle Blade Quanti delle Blade Qua ho tutto delle Blade Vai Flagello del Drago La corte di Winderm Sono in mezzo della tempesta Oh Dio Sono alla fine della missione della città di ladri Ha sponato Briniolf Con l'armatura Senza armatura Col vestito nobile Si è buggata Perché non c'è l'NPC L'elfa Così a caso Io direi che possiamo finirla qui In teoria hai vinto te Dai perché almeno tu hai bloccato una missione Almeno in qualche modo si è proseguito nella main quest Io sono all'ultima missione del gioco Non la puoi completare Però intanto ci sei arrivato Oh sono arrivato a Wytran È finita Niente no vabbè Io mi arrendo Ho perso potere tutta la mia roba Perché mi sono fatto arrestare Gloria al sangue di Drago Ah sono da Partonax Sei Partonax con il... No non c'è nessuno Sei Partonax No mi ha fatto ammazzadraghi Completata Fina boom Finita la storia Non c'è nemmeno Partonax Non c'è un cane Hai vinto te pala Perché hai finito il gioco Senza alcun comando Proprio giocando e basta Hai sbloccato la missione ammazzadraghi E si è arrivato pure davanti a Sommegard Con i tizi per uccidere Alduin Vediamo però Il tumulo delle cascate tristi Quali erano le due porti Che dovevamo trovare per farlo Dove cazzo Oddio Era questa Era questa porta qui Quella dell'esterno di Rodgar Alto La torre esterna così Prima dovevi trovare L'anello del drago Perché se no Non potevi passare sta porta Che anello del drago L'artiglio L'artiglio Che trovi Nell'altra parte Questa parte Qual era What Dove eri tu Ah perché quella porta Non potevo aprirla Quindi l'unica porta Sei arrivato davanti Sei anche quello Che si è avvicinato di più In teoria bisognava arrivare Prima dal di qua Quindi vediamo Caserme di Windhelm Si è Dove sto andando Ero dall'altra parte Di questa porta qui Nel mondo di Skyrim normale Bastava farsi Arrestare a Windhelm Ok vediamo Qual era l'altra porta Dove sei? In che città sei? Segheria Mixwater Sotto a Windhelm Poi tutto a Windhelm E niente ragazzi Prossima volta faremo una challenge Un po' più fattibile Perché come avete visto Era stato Cioè era possibile Ma era molto difficile Ditemi cosa ne pensate Lasciate like Iscrivetevi Condividete Noi ci vediamo al prossimo video Buonanotte Noi ci vediamo al prossimo video